Si continua a lavorare su più fronti per evitare la chiusura del centro psichiatrico diurno di Viale Vespucci a Pescara. Dopo l'appello dei sindacati schierati al fianco di lavoratori e degenti, una richiesta alla ASL di rivedere la decisione è arrivata anche dal comitato ristretto dei sindaci presieduto dal primo cittadino del capoluogo adriatico Carlo Masci. Noi abbiamo sottolineato un tema, non possiamo perdere nella città di Pescara dei servizi sanitari, soprattutto in questo momento storico. Sembrava che questo dovesse succedere o potesse succedere a seguito di provvedimenti emanati dalla ASL. Il comitato ristretto dei sindaci è servito per chiarire le varie posizioni amministrative. La ASL ha dimostrato ampia disponibilità a rivedere il processo amministrativo per fare in modo che Pescara non perda il centro di urno ma acquisti una casa famiglia necessaria per i pazienti psichiatrici, per i pazienti neurologici. Quindi c'è un percorso che abbiamo avviato nell'incontro che si è avuto ieri. Io penso che questo incontro porterà dei risultati positivi anche perché noi ci siamo messi a disposizione della ASL per trovare degli spazi che possono essere adeguati in tempi medio-brevi per fare in modo che quel servizio che sembrerebbe essere stato svolto per troppo tempo in maniera provvisoria in un locale non idoneo possa invece essere svolto in un locale idoneo per la tutela dei pazienti e per un servizio ovviamente migliore. Nel frattempo la ASL ha detto che sta valutando una proroga, sta ragionando, ovviamente ci sono dei percorsi amministrativi che devono essere messi in campo. La cosa che noi abbiamo ovviamente preteso e la ASL ci ha dato ampie garanzie è la tutela dei pazienti che sono poi le persone fragili che devono essere tutelate e la garanzia che i percorsi sanitari siano i migliori possibili. Abbiamo sottolineato che il Comitato Ristretto dei Sindaci vuole svolgere a pieno la sua funzione di controllo ma anche di cinghia di trasmissione tra il territorio e coloro che dovranno decidere. L'assessore della sanità Averie si è detta assolutamente disponibile. Noi abbiamo detto che vorremmo vedere una bozza che non sia definitiva ma vorremmo trattare e ragionare con la ASL per verificare quali sono i servizi essenziali che dobbiamo mettere in campo nel presidio ospedaliero di Pescara, di Penne, di Popoli perché la ASL di Pescara non ha soltanto il presidio ospedaliero di Pescara per il quale oltretutto stiamo anche facendo una battaglia per portarlo al DEA di secondo livello come già avrebbe dovuto essere da tempo. La Verisi è dichiarata disponibile e quindi ci ragioneremo sicuramente. Ci siamo detti che faremo altri appuntamenti a breve proprio per verificare bene il piano di riordino della sanità ospedaliera.